E' morta carbonizzata, avvolta dalle fiamme che dalla cucina economica hanno avvolto gli abiti estendendosi a tutto il corpo. In pochi istanti una fine orribile, quella di Giovannina Merotto, 93 anni, morta ieri nel tardo pomeriggio, nella cucina della sua abitazione in via Canal Nuova col San Martino. Da anni non usciva di casa, era in sedia a rotelle, trascorreva le sue giornate nell'abitazione di famiglia dove viveva con i figli, accanto all'azienda agricola nel centro del paese. Molto probabilmente l'anziana ieri pomeriggio aveva attizzato il fuoco provocando le scintille fatali. La frazione di Faradissoligo oggi è sotto shock per la tragedia che ha colpito la piccola comunità. Il dolore, cioè se sente, perché giustamente nel paese piccolo si è conosciuti, anche se mi sinceramente non la conoscei come persona, però la conoscei di vista. mi dispiace, anche io ho 89 anni, perciò vuoi che ti dimentichi sul fuoco una cosa, fai presto, è il terrore dei miei figli. Era in sedia a rotelle perché non riusciva a camminare, ma non... sì, fisicamente non era, non stava male. I fratelli sì, i figli sono sempre là perché uno l'altro è sempre caro, però... così è andata. È stato proprio uno dei figli allertato dai vicini a chiamare i soccorsi e familiari e paesani prima di intervenire con gli estintori per spegnere le fiamme. Purtroppo per Giannina Merotto non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. La casa è stata posta sotto sequestro in attesa della conclusione di tutti gli accertamenti che al momento confermano l'ipotesi del terribile incidente e l'intero paese si stringe alla famiglia dell'anziana. Io mi stringo con tutta l'amministrazione, ma tutto il paese, alla famiglia, ai figli, proprio per la tragicità della morte e appunto perché è stato veramente uno shock per tutti perché anche oggi non si parla d'arto purtroppo.